Reale intenzione o solo provocazione estrema per spingere tutti a fare di più per i poveri, l'annuncio del missionario laico Biagio Conte di voler abbandonare Palermo e la Sicilia al loro destino per portare la sua croce altrove ha colpito il cuore di molti. I suoi più stretti collaboratori gli chiedono di non mollare e di attendere con pazienza gli sviluppi della vicenda legale che coinvolge i capannoni dell'ex Fonderia Basile ma che rischia di strozzare la missione con un cappio da 417 mila euro di affitti e presunti oneri di occupazione abusiva da versare. Ma su Facebook il presidente del Consiglio Comunale di Sant'Agata Militello lancia una proposta per convolgere tutti i comuni dell'isola. Una cosa nata per caso sui social network perché ho appreso da un articolo pubblicato da Giovanni Pepi il direttore del giornale Sicilia delle difficoltà costanti della fondazione di Biagio Conte che addirittura vuole lasciare Palermo. Quindi su due piedi ho lanciato una proposta operativa che anziché attendere le istituzioni che non arrivano, lo Stato piuttosto che la Regione, è quello di coinvolgere tutti i consigli comunali di fare un'iniziativa che parta dal basso e donare un gettone di presenza che è una cosa simbolica ma se ci mettiamo tutti insieme io credo che si raggiunga una cifra ragguardevole e sostenere una struttura che come è noto dà mangiare e dà ricovero a circa mille persone fra uomini, donne e bambini. Biagio Conte fa solo del bene da 25 anni a questa parte e sconta difficoltà straordinarie. Io ho già ricevuto moltissime adesioni da parte di amici, di consiglieri comunali, di Presidenti Consigli di molti comuni. Già dalla settimana prossima le proposte saranno sui tavoli di tutti i Presidenti Consigli della Sicilia per poter deliberare e devolvere un minimo di contributo che però messo tutto assieme credo che può raggiungere un risultato significativo.